Ciao a tutti, 20 regole per conquistare un uomo. In questo video voglio spiegarti 20 regole base per conquistare un uomo. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai scegliere con gli abbonamenti base per dare un sostegno al canale e partecipare alle live l'abbonamento seminario online per partecipare ai miei seminari online che faccio mensilmente. Adesso veniamo alle 20 regole per conquistare un uomo. Allora la prima regola è, sembrerà strano, ma impara a stare da sola. Perché se non impari a stare da sola, se non riesci a stare da sola, non sarai seduttiva, vivrai sempre con la sensazione di abbandono che ti impedirà, diciamo, di fatto di riuscire a riconquistarlo. Questo ho a conquistarlo perché ti porrai sempre come bisognosa. Regola numero due, esci dagli schemi familiari, cioè di emulazione del mito genitoriale. Spesso le donne si innamorano di un uomo che in qualche modo analogicamente ricordi i tratti paterni. Ecco, quindi questo produce degli attaccamenti. Se ti riconosci in questi schemi, cerca di rendertene conto e cerca di uscire fuori da questi schemi. Perché quella sicuramente non sarà la persona giusta perché ti farà vivere lo stesso tipo di sofferenze che tu hai vissuto nell'infanzia. Per cui è qualcosa che non funziona. Regola numero tre, cerca di essere indipendente. Indipendente vuol dire che devi sentirti in grado di avere il tuo status economico da sola, di essere, diciamo, di non dipendere dagli uomini. Essere autonoma, autosufficiente e renderti una donna, da questo punto di vista, completamente autonoma. Questo attrae molto gli uomini. Regola numero quattro, sorridi. Ecco, sviluppa un bel sorriso, un sorriso vero. Il sorriso seduce tantissimo, il sorriso conquista gli uomini. Se vuoi conquistare un uomo, veramente impara a sorridere. Gli uomini amano, sono affascinati. Inconsapevolmente non se ne rendono conto dalle donne che sorridono. Regola numero cinque, impara a essere ironica. Impara a prenderlo un po' in giro. Impara a essere anche un po', come dire, irriverente nei suoi confronti. Questa è un'altra regola molto importante, che ti consentirà di ottenere veramente dei risultati molto importanti da questo punto di vista. Regola numero sette, regola numero sei, scusa, metti in atto il ricalco e la guida. Ricalco e guida sono due strategie della PNL, della programmazione neurolinguistica, che sono molto utili nella conquista. Il ricalco vuol dire che, diciamo, ricalchi i suoi valori, le sue credenze, le sue modalità comunicative. Cioè, ti plasmi un po' da questo punto di vista, in modo tale che nasca una sorta di identificazione emotiva. E poi provi a muoverti, a cambiare, a tirarlo fuori, a vedere se lui ti segue. Ecco, quindi dopo una prima fase di ricalco, inizia a guidare. Se si lascia guidare, significa che l'hai agganciato. Regola numero sette, prenditi cura del tuo aspetto, sii femminile. Quindi, sii femminile nel look, nell'abbigliamento, ma anche nella tua parte fisica. Cerca di tenerti in forma, fare una dieta equilibrata. Insomma, cerca di essere appetibile da un punto di vista fisico. Questo è fondamentale. Regola numero otto, anche questa cosa qua è molto importante, sviluppa anche una cultura. Cioè, cerca di essere una donna che abbia una cultura, una donna che abbia, per così dire, una capacità di sviluppare una cultura personale, che sappia parlare, che sappia scrivere. Non devi essere, diciamo, una donna che non sa mettere assieme un verbo, un soggetto, un complemento oggetto, che, insomma, più se vuoi attrarre uomini di qualità, ovviamente, perché l'uomo di qualità è attratto comunque anche, ci devono essere anche altre cose, ma la cultura e la capacità di eloquio della donna è comunque una condizione sine qua non. Regola numero nove, impara bene la comunicazione non verbale. Devi capire, dal linguaggio non verbale, se questa persona è coinvolta, se è attratta, oppure se non è attratta. Quindi, devi guardare molti segnali non verbali, capire segnali di gradimento, si mordicchia le labbra, si tocca le labbra, si accarezza in questo modo, si portendo in avanti o eventuali segnali di rifiuto, raschiamenti, andare indietro, sfregarsi il naso, sono tutti segnali che ti indicano che non c'è coinvolgimento, al di là di quello che dice, questo è fondamentale. La regola numero undici, la regola numero dieci, devi imparare, diciamo, a stimolare. Stimolare vuol dire presentarti come una donna interessante, attraente, far notare la tua presenza. Far notare la tua presenza, e questo è molto importante, perché si abbocca, diciamo, che ottieni dei risultati da questo punto di vista. E poi abbiamo la regola numero undici, che è quella di piano piano portarlo fuori dalla sua zona di comfort. Se lo porti fuori dalla sua zona di comfort, quindi gli fai fare delle cose che magari normalmente non farebbe, beh, otterrai dei risultati certi da questo punto di vista. Otterrai degli ottimi risultati. Otterrai degli ottimi risultati perché tenderà comunque a coinvolgersi con te, tenderà a essere sempre più coinvolto da questo punto di vista. Quindi questa è un'altra cosa ottima che devi imparare, devi imparare a fare. Quindi farlo uscire fuori dalla tua zona di comfort. E regola numero dodici, devi essere donna. Donna con la D maiuscola. Una donna che sa quello che vuole, quindi deve avere le idee chiare. Quindi questo, avere le idee chiare, è fondamentale. Perché se tu non hai le idee chiare, non hai i tuoi obiettivi e non sai quello che vuoi, beh, sarai, come dire, a nessun vento favorevole per il marinario che non sa dove andare, non raggiungerai nessun obiettivo. Regola numero tredici, cerca di distinguerti dalle altre donne. Per originalità, per modo di fare, non devi essere massificata, devi percepirti come unica. E questo poi viene alla regola numero quattordici, fatti osservare. Dagli modo di osservarti nei social, ma anche, diciamo, ma anche da un punto di vista visivo, a seconda delle condizioni che ci sono. Tu non devi fare nulla, devi semplicemente entrare nel suo campo, come dire, sensoriale, visivo, uditivo, olfattivo, questo qua. Regola numero quindici, anche questa cosa qua è una, anche questa regola è una regola molto importante. Creati delle credenze positive. Delle credenze positive vuol dire che inizi a pensare di meritare l'amore, di essere bella. Quindi le credenze positive ti faranno uscire dalla pigrizia, ti renderanno più interessante, più attraente. Regola numero sedici, la fretta e cattiva consigliera. Prendi tutto il tuo tempo, non avere paura di perderlo, non avere paura che se ne vada, perché se inizi ad avere paura è lì che lo perderai fondamentalmente. Regola numero diciotto, si equilibrate in te stessa, crea un tuo equilibrio mente-corpo, questo è fondamentale. Quindi è valido praticare la meditazione, ma anche valorizzare te stessa, comunque in un equilibrio interiore e esteriore. Regola numero diciotto, non accontentarti. Ecco, qui non dire va bene, va bene lo stesso anche perché ormai è una certetta, ormai qua, là, ormai su e giù, non accontentarti perché non ne vale assolutamente la pena. Se ti accontenti entrerai in uno stato estremamente negativo. Regola numero diciannove, non essere competitiva con le altre donne, cioè non cedere alla competizione perché tu devi dimostrarti superiore alle altre donne. Quindi non accettare, diciamo, di entrare in competizione perché ti spingerà, lo spingerà automaticamente verso le altre. Invece se non le considererai neanche otterrai sicuramente dei coinvolgimenti molto forti. E regola numero venti, se riesci, se è possibile, crea un buon legame con la sua famiglia, soprattutto con la madre, perché questo è veramente una chiave di seduzione molto, molto, molto forte. Se è possibile nel tempo, diciamo, è un qualcosa che aiuta sicuramente moltissimo. Perché poi molti uomini, al fine, badano molto, insomma, a questo. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai scegliere tra abbonamenti base per dare un sostegno al canale e abbonamento seminario online per partecipare al mio seminario online che faccio mensilmente. Ciao a tutti!